buongiorno oggi bisogna fare tantissime cose ma il video di oggi è la challenge 24 ore mangio cibo greco quindi alziamoci prepariamoci e facciamo colazione guardiamo osace ok devo scegliere cosa fare per colazione greca ma non è che c'è molto uno yogurt uno yogurt allora ieri vi devo dire in realtà non ce la facevo ho mangiato uno di questi molto buono ci ho aggiunto anche il miele dalla Toscani anche poi guarda quello tu per giù comunque voglio fare colazione con lo yogurt dessert strawberry granola che è questo qua eri ma anche quello è erida eridanus no 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 questo è quello vero quindi ci accontenteremo questa volta di questo ok prendiamo il come siamo il cucchiaino e mi devo male che devo andare da ods a prendere delle ossa guardiamo un po di ossa saprà di ossa saprà saprà bistro berry l'altro era buono solo che c'era pezzettini di di pesca nello yogurt o pezzi non è che mi capisco che è al bacanto anche questo c'è un po di pezzi effettivamente sembra un budino un budano um budano ah ma c'era già anche il coso bellino come Come si apre? Aspettate, vedete che c'è anche il coso, ma io mica lo sapevo, bellissimi, uno mi fa a mangiarlo in questo... Non si apre? No, è così, corto? Allora, la consistenza è molto dura in realtà, ma sono così? Quell'altro non era così duro, molto duro, vedete? Buona colazione a tutti! Però devo bere qualcosa perché a pilla ha consistenza strana, è buono? Però sembra più una specie di budino, capito? E questo no! Ci sono pezzettini di fragola, ma... Fortuna che la fragola mi piace! Cioè è molto dura, compatto, la parola giusta, è compatta! Ci sta! Finito l'iogurtino, però mi serve un caffè ragazzi, mi dispiace! Lo so che non è greco questo caffè, anzi anche decaffeinato, però bisogna svegliarci, perché poi bisogna prepararci! È il classico caffè decaffeinato di chi sveglia! Sì, a me sveglia! Vestito, lavato, profumato e ora posso uscire perché devo andare a prendere delle cose per dei video futuri! Nel frattempo tutte queste robe qui sono sempre per video futuri che si sono accavallati in questi giorni! Però usciamo, torniamo e poi pranziamo e vediamo cosa mangiare! Speriamo che ci sia tutto quello che sto cercando, perché sono praticamente due settimane su per giù che faccio mincetta, giri di robe qui in Toscana, ovunque, però oggi sento che è la volta buona! Spero! Seguitemi! La mia biciclettina classica! Ok, ho fatto tutto velocissimamente, sono riuscito a trovare quello che dovevo trovare e quindi ora torniamo a casa, perché non vi spoilerò nulla, ovviamente! È tipo luna, ok? Ora di pranzo, guardiamo cosa possiamo mangiare! Mangerò le polpettine, ok? Polpette con olive o le altre? Forse le altre... Polpette di carne e ripiene, di salsa tzatziki e poi così di contorno prendiamo anche le olivette e proviamo anche in anteprima questo, questo qua. Mi sembra una buona idea. Quindi, polpette, che sono qua. Formaggio e le olive dove le ho ficcate. Eccole! Le olive, quelle con la cipolletta. Facciamole! Via! Un po' d'olio nella padellina. Polpettine. Quante ne faccio, però? Che sono tante! Che Diego ha già mangiato. Mi devo portare anche già. Sì, però aprite! Ah, tra le altre cose ho fatto un P.S. Ieri ho mangiato, ho fatto le patatine, quelle di Halloween. Madonna, come sono buone! Buone, buone, buone! Ma la cosa è assurda, raga! Perché non le fanno tutte l'anno? Anche Diego ci è andato pazzo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì, dieci possono andare. Le potevo fare anche al microonde, c'è scritto. Comunque, in padella, cinque minuti. E fare attenzione perché all'interno, c'è scritto, può essere molto, molto caldo. Ma che succede? Che schioccola tutta! Nel frattempo volevo provare ad aprire questo. Ah, è proprio... Mamma! È troppo grosso, aspettate, ce lo devo tagliare. Bisogna assaggiarlo! Assaggiamolo! Sembra tipo Philadelphia, o tazzi? Beh, lo mettiamo qua nel frattempo e poi se mi piace ne prenderò dell'altro. E poi le olive... Ah! Oh, ce l'ho fatta, sono diventato maschio. Super torsuto! Guardiamo. Ma dentro non c'è mia la osa. Ma... Non c'è dentro la cipollina, scusa? Ah, qua sì. Qua sì. Ok, chiudiamone un po'. E vediamo un po' cosa succede. Andiamo a girare le porpettine! Buone! 5 minuti, sì. Aspettiamo poi. Assaggiamo le olive. E' che c'è la cipolla. A me la cipolla di solito mi piace, eh. Però così boh. Ok, neanche si sente più di tanto. Ci sta. Buone, ne prenderò altre. Mi sa che le ho un po' bruciacchiatine. E vabbè, succede. Almeno... Ah! Non posso chissare l'olio! C'è un maglione di gucci! Ok. Ci siamo. Direi, innanzitutto, assaggiamo questo benedetto formaggio. Partiamo un po'. Partiamo un po'. Mmm! Che dire! Ti devo dire, anzi. La consistenza è quella del Philadelphia. È un po' più durino. Però lo amo. Buono! Ne potevo prendere di più. Buono, buono! Non gli avrei dato un euro, nella realtà. Però gli ho dati due. Buono! A formaggio super approvato. Guardiamo le polpettine. Siccome c'è scritto che l'inter... Ah, ecco perché... Guardate! L'interno... Eh... Che c'è la salsa tzatziki. Tzatziki! Mmm! Mmm! Ok. Sì. Qua si sente. Sì, sì. Super ottime! Le amo! Ma che bello! Per una volta finalmente ci ho indovinato. Mmm! Sì! E vi dirà di più! Infatti da velle anche bruciacchiate gli dà quella croccantezza un po' più... Spicy! Buono! Amo! Amo tutto! Mmm! Ci sta! Il mio preferito, però, rimane questo formaggio. Buono, buono! Amo! Mmm! 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 L'ultima polpettina! Mmm! E l'ultima olivetta! Mmm! Mmm! Posso dire, questo pranzo mi è piaciuto molto, 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 quindi appuntamento super giù verso le 4, le 5 per vedere di inventarsi un po' la merenda. A dopo! Mi sveglio ancora, cacata! Allora, sono tipo le 4 e mezza, ho super giù, ora di merendina! L'unica e due cose che ho trovato, di quelle che ho comprato, sono questi crispy coated peanuts, che però io eviterei di mangiare, perché sapete, frutta secca mi scifecca. E poi mi sono ricordato di aver preso questo, halva with cocoa, che penso che sia un dolce. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere se veramente è un dolce, oppure no, e lo mangeremo e lo assaggeremo insieme! Ok! Mi sveglio ancora, cacata! Da allora! Mi sveglio ancora, cacata! Io non ce l'avevo più che mi si rompano tutti! Le inutilità del tutto esse! Andiamo a tagliare! Però, guarda come ce lo metto! Mi sveglio ancora! Cacata! Allora! Mettetevi qua! Ma, ma... Chi ho anche a te? Sono strano, solo! Però come si ho? Ah, ma si rompe! Ma la facciamo sì, guarda! Tutta gliaam! Così! Uno! E due! Poi! A regola! Deveva far... Ok! Tegliato? Ok! Bellino! Carino! Carino! Guardatelo! Carino! Allora! Guardiamo un po' la consistenza! Ma questa è un po' così! Dovrebbe esserci cioccolato anche! Ma non ci... È molto secco! Com'è? Ma la voglio assaggi anche io! Belli! Vuoi... Ma questi sono mattoni! Scusate, no! Inquadra come sono le fette qui! Fini così! E lui cosa ha tagliato? Non so se lo vedete! E poi dice molto secco! Per gustarlo determinate cose! Però non mangia tipo un pezzo di carne così grosso! Se invece lo tagli più in fine lo mangi meglio! Ma che dici? Taglialo più piccolo! Ma rimane secco uguale! Sì, ma lo mangi meglio, gallina! No, senti che è secco! Not my favorite! È disidratato! Il sapore... Il resto del sapore è buono! È cocco! Cocò è cocco! No, stupido! È cioccolato! Cocò è? Eh, cioccolato! Cacao in inglese si dice cocò è! Stai scherzando? No! Io da ieri dico cocò è cocco! Non scherzi? Cocò è! Cacao! Che figlio è di merda! Ma poi devo sentire, non c'è il cocco! Ma invece io ce lo sento! Perché sono autoconvinto che era cocco! Ma scusa, il bianco cos'è? Sarà il latte o yogurt? No, io sono scioccato da me stesso! E cocco come si dice? Coconaut? Eh, sì! È una senegalina senegalina vera! No, raga! Ma io ho scoperto dopo 24 ore! Che cocco ha! Significava cioccolato! Che figure! Mi fate fare delle figure ma di quelle... Vabbè! Ma state scherzando? Cioè, gli inglesi sono scritti in finlandese, in serbo, in svizzero... In greco? No! In russo! In bulgaro! E non c'è il numero inglese! Ecco qua! Ah, forse in bulgaro, cocco significa cocco, perché io ci sento il cocco! Comunque, appurato che non è al cocco, errore mio, raga! Scusate, sicuramente mi avrete scritto in 800.000 nello svuoto alla spesa di ieri! Ma lo devo ancora caricare nel momento in cui sto registrando questo video! Questo no! Non mi è piaciuto molto! No, 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 no! Però, vabbè, ci sta come merendina! A questo punto, io mi devo inventare qualcosa per la scena! Ah, so già cosa fare! Ci vediamo a ora di ciò che sarà 3, 2, 1... Adesso! 8 e mezzo su per giù, raghi, è arrivata ora di cena! E ho già deciso, perché già sapevo... La leggo! Cosa fare? Voglio fare i calamachi, questi qua, anche perché li ho mezzi aperti per cercare di metterli in congelatore, solo che ho visto che non c'è la plastica! Marema, ma fai sito! Mentre parlo! Non c'è la plastica, quindi le farò quello! E poi ho tirato fuori un po' di pita! Pita mellai! Ti ricordo da pita! Quanto di Hunger Games! Bravo! È pita mellarca, mellai! E poi, vabbè, c'è da finire ancora! Oh, mamma, Diego, devi assaggiare questo! Ormai si finisce! Cistoso! Che è stoso! E poi ci sono ancora le olive, quindi chiamole! Ok? No, c'è anche altri, c'è l'evento! Sì, la moussaka, no, è troppa! Voglio vedere questo qui! Oh se no tzatziki Ah no apriamo la tzatziki La tzatziki Ok L'unica cosa è che Allora queste vanno in forno In microondas o in padella Vanno in padella Riscaldare 14 16 minuti Con coperchio Che vuoi cos'è Si set up Ah se cotti con coperchio Rimarranno più succosi Mentre La pita che è congelata Allora come si fa Preparazione Un minuto in forno Posta pane o padella Media ok Prendiamo le padelle Che bello Un filo d'olio D'olivia Prendiamole perché non l'ho mia presenza I kalamaki Chissà come sono Saranno buoni Sono messi Bellini Uno Due Ma vuoi anche un kalamaki? Cos'è qua? Si Aspetta però perché qua Ci sono anche dei bastoncini Eh stupido Questi vanno messi così Ah ma dopo? Non provarci Mentre l'ora Oh mamma Guarda quanti bastoni Quanti ne fai? Eh tutti Ci sono anche bastoncini Ci siamo eh raga Ora questi Te l'ho detto Ci devono stare 14 minuti Vanno girati L'ho messi tutti eh Uno due tre Quattro cinque Sei sette Sono E vediamo La pita me l'hai lì Ne devo mettere una alla volta Perché Piccolina L'unica cosa è che io Non mi ero ricordato Di averci anche questo Grink Olive Patè Me l'ha ricordato Diego Dall'altro E quindi Mentre la pita Tre Due Io Uno Diego Perché ne vuole solo una Prigi Prigi Amore Prigi E anche se Puerino Poi in realtà Ci sarebbe anche da pulire Tutta la cucina Perché qui c'è l'olio sfizzato ovunque Ma Vabbè Però Intanto mangiamo È tutto Lei che carini Qualcosa che non va Perché Queste Salsicine All'esterno Si bruciano E diventano nere Ma all'interno È un suono ancora pronte Quindi non so cosa fare Vedete All'interno sono Nere All'esterno sono nere Però poi dentro Ho provato ad aprire Ma Sono dure Noi aspettiamo Manca ancora Quattro minuti Vediamo Ne provo a assaggiare un pezzo Perché Sì Secondo me Sono pronte 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 Ok Ci siamo Allora Vedete Non sono Propriamente Però sono venute Buone E bene Mi sa che anche qui c'è Un po' di salsa Salsicchi Anyway Prendiamo la nostra pita E andiamo Ad aprire questo Patè Di olive Ma Che buone Ora ovviamente L'ho fatta anche per Diego Eh raga Io non mi mangio Tutte e sette Queste Però Voglio Assaggiare Un attimo Questo patè Io amo L'olive E mangerai come le patatine Approvatissimo E anzi Farei di più Se io Lo metto così Ci sta Allora Una Diego Due Diego Tre Diego Buono raga E poi ricordiamoci Che ho ancora Questo formaggino Del pranzo Più le olive Ovviamente Perché Allora Posso dire che Per il momento Delle 24 ore challenge Che ho fatto Delle varie settimane Così Questa è la mia preferità Ok Perché Non sono ciucerie Non sono fritti Non sono così Però c'è comunque Carni Ci sono Comunque Dei Formaggi Super buoni La mia prefe Per ora Sì Molto Sono buono Meno E uno Andiamo Ad Intilizzare Anche questo Diego Ma dove sei? Un po' di Zuzaki Patet Olive Buono 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 Davvero Buono Raga È Incredible Di Finito Tutto Anche Diego La Cosate Buonissimi Ragazzi Buono 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 Come si chiamavano Questi? Cala Scrittoli Calafuria Calamati Calamati Anche le polpettine Sì ma ci vale l'olio Se lei mangia lui Perché io mi sono mangiato Quattro spiedoni Tutto buono Tutto buono Voto Di essi No no Ma ve l'ho già detto Che tra tutte le 24 ore challenge Che ho fatto in questi mesi Per ora Greco Perfetto È il mio prefe Vediamo Se prossima settimana Mi daranno Un po' di pace E quindi Non ci sarà nulla O se ci sarà O lo nuovo a settimana Lo vedremo comunque Non è finito Quel formaggio No No Ecco Questo Eh ma lo finì No Sembra tipo Un po' di fila delzio Però un po' più duro E poi non so cosa sono Questi cosi Verdi E poi anche il dentro Non so che cosa sia A questo punto Non scelgo No Ti lascio il primo Peso Grazie Anyway Ragazzi Ragazzi Questa challenge È stata super superata E anche Abbondantemente Felice Insomma Di aver fatto questa roba Che bella Questa mia nuova Passione Per le spese Invece che per i vestiti Fatemi sapere voi qua Sotto tramite commento Qual è il vostro Cibo greco preferito E soprattutto Quale settimana abbiamo fatto Quest'anno Americana Halloween Messicana E greca Fatemi sapere se Fra queste quattro Qual è la vostra preferita Ok Io sto aspettando ancora La settimana asiafica O l'hanno già fatta Vedremo Vedremo Mettete il piace a questo video Se vi ha fatto compagnia Grazie per essere stati con me Settimana asiafica Speriamo Perché non mi riesce A trovarlo Sto cibo Ma ci ho trovato Un ristorante africano L'ho detto No Ho trovato Un ristorante africano Shock Ma qui vicino Sì In Porta Venezia Ci andrò Adoro Finalmente Anyway Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Che ho un po' spoilerato Mi sa Dietro Insomma Se siete stati attenti Saprete già Che video Sarà domani Se no Ci vediamo domani Alle 13 Ciao Ciao